Maso Rossi chiama uno schema e invece un appoggio corto su Di Pascasio fuori il Ciaralli, la palla è buona dentro, si chiude! Una splendida azione in triangolo da corner e il vantaggio della Virtus Stella Azzurra col miglior uomo in questi primi minuti dei padroni di casa Ciaralli 1-0